appuntamento assolutamente da non perdere sabato alle 18 domenica alle 9 su sport italia con golf mania saremo al monte simone golf club sull'appennino modenese un bellissimo campo di montagna a nove buche tanti consigli mai i piedi pari e poi i consigli fisioterapici consigli per vacanze da sogno insomma non potete assolutamente mancare con questo appuntamento dedicato a uno sport fantastico da giocare e se non siete giocatori assolutamente da provare golf mania su sport italia nel weekend vi aspetto